Questa volta il reportage per la Digital News 24 l'ho voluto realizzare alle terme di Fiugi. Fiugi è un comune italiano in provincia di Frosinone ed è costituito da due diversi nuclei abitativi, Fiugi Fonte e Fiugi Città. A Fiugi Fonte gli stabilimenti d'Otremani sono due, la Fonte Bonifacio VIII e la Fonte Anticolano. La Fonte Bonifacio è il luogo ideale per dedicarsi alla cura e al benessere del proprio corpo. Infatti la terapia idropinica con acqua Fiugi, accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, risulta ottima per la cura e prevenzione della calcolosi renale, vescicale, uretrale e loro recidive. Godere delle proprietà salutari di quest'acqua è molto semplice, basta regarsi direttamente alle fonti o appizzare acqua Fiugi in bocchino. Tutti coloro che necessitano di un albergo durante il periodo di cura alle terme consiglio sicuramente il Mondial Park Hotel, un albergo dove potrete trovare camere con tv, piscina, solarium, sala congressi, ristorante, piano bar, dancing, sala cinematografica, beauty center, palestra, sauna, ampio parco, un ottimo parcheggio e aria condizionata. Veramente un'ottima struttura. per gli amanti invece dei salumi di noccia e tipici sociali va suggerito il norcino. Da Marco infatti potrete trovare veramente dei prodotti locali ottimi. Per raggiungere il benessere bisogna tornare alla fonte. Grazie a tutti.